Musica Oggi, 25 novembre, si celebra la giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne. Per molti, una data che serve a sottolineare una problematica culturale che uccide l'umanità della nostra specie su questa terra, per alcuni un'esagerazione dell'emancipazione femminile. In ogni caso, sono i dati a parlare ed in Italia i numeri dei casi registrati non sono per niente rassicuranti. L'ultimo report della Polizia di Stato mostra che ogni giorno nel nostro bel paese sono 88 le donne vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. Per l'88% sono italiane e per il 74% lo sono anche i loro carnefici. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte le classi sociali e culturali. Nel 2019 il 34% delle vittime di omicidio è donna e in 6 casi su 10 l'assassino è il partner o l'ex partner. Una su due lascia dei figli piccoli e nel 18% dei casi l'autore si toglie la vita. Ma l'universo femminile di tutto il mondo si sta muovendo per combattere questa battaglia. Il Codice Rosso, la legge approvata dal Senato il 19 luglio scorso, innova e modifica la disciplina penale, sia sostanziale che processuale, della violenza domestica e di genere, corredandola di inasprimenti di sanzione ed introducendo anche nuove forme di reato, come il revenge porn, ovvero la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Oggi sono migliaia le manifestazioni, gli incontri, le iniziative che stanno in queste ore, puntando i riflettori sulla tematica. Non poteva mancare la città di Cava dei Tirreni, che ha organizzato una serie di eventi in merito, nella rassegna Un'altra me, perché la denuncia è l'unica strada da percorrere per ritrovarsi. Partito ieri al complesso monumentale di San Giovanni, situato nel cuore del centro storico metelliano, attraverso una mostra di scarpette rosse in ceramica, il programma continua anche oggi, alle ore 18, con la rappresentazione teatrale, sogni rubati non quantificabili, e dal termine dello spettacolo sarà creato un tavolo di confronto, per dire no alla violenza di genere. Avremo un tavolo di confronto. Preliminarmente il tavolo di confronto sarà anticipato da una performance teatrale a cura di Gertode Barba. Proseguiremo con un tavolo di confronto con le varie persone e le varie figure che possono aiutare, sostenere e devono ricevere la denuncia della donna. Concluderemo con la testimonianza diretta di una donna vittima di violenza presa in carico dal CAV Centro Antiviolenza di Cava, che è riuscita a farcela e quindi un messaggio positivo. Sicuramente avremo un momento di riflessione per tutte le vittime di violenza e per la nostra cara Nunzia Maiorano, che rimane sempre nei nostri pensieri. E poi concluderemo infine con un flash mob su iniziativa di resilienza, che è un'altra associazione. Voglio precisare che all'evento hanno partecipato attivamente tutte le associazioni di donne presenti sul territorio, al cui va il mio più totale ringraziamento.